Vladislav Baumgartner, numero uno del gigante russo Uralcali, è stato fermato dalle autorità bielorusse durante un viaggio nel paese. L'accusa? Abuso di potere nella sua veste di presidente di BPC, la joint venture tra la sua azienda e la bielorussa Belaruskali, che controllava quasi il 40% del mercato mondiale di potassio, componente essenziale dei fertilizzanti. Neanche un mese fa, a fine luglio, Uralcali aveva annunciato la rottura della partnership cartello e l'intenzione di aggredire il mercato aumentando la produzione e puntando sull'acquisizione di quote di mercato a discapito del fatturato. Un colpo per la statale Belaruskali, che aveva reagito annunciando che non avrebbe seguito la ex partner lungo tale strada. Ora nella contesa entrano in gioco i rispettivi governi, con le autorità bielorusse che cercano altri quattro dirigenti di Uralcali e il governo di Mosca, che definisce inappropriata la detenzione di Baumgartner.